musica 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 ma io ho fatto proprio grande franale insomma è uscita però la differenza è che al grande franale c'erano 50.000 euro di franale su scena qua c'erano i lupi quindi non so però insomma l'agentario è di Torino quindi del nord si è anche divertito per me è stata una insomma ogni tanto faceva delle passeggiate gradevoli io andavo solo in farmacia quindi ho vissuto però lui mi ha fatto la domanda non lo so scrivere non lo so giocare lo so sembra ma si fa prima tranquilla ci ascolta i giornalisti sono strani si 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 è che sta al lavoro però ma siamo stati in Italia anche al canale siamo trovati in Italia siamo qui grazie 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 grazie